E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora, iniziamo subito con l'incontro per la semifinale Questo incontro vede annuncia il contro Scorpion born, si lo so durerà poco ma tanto dovete vederlo perché vi parlerò poi di alcune cose importanti 3, 2, 1, posso mettere anche questo Tanto durerà poco, comunque pronti, partenza, via Ma guarda come i danni Ok, non si entra a niente Comunque bisogna dire che comunque qualche picco, un po' di danno glielo sta facendo La barra di energia però un po' gli sta calando Annunciare anche se non ha fatto molto danno Comunque queste ingrandite Vedete? La barra di energia di vita un pezzettino l'ha persa Quindi diciamo che è morto Quindi diciamo che in un certo senso è morto combattendo Beh, ragazzi Mi dispiace ma Il nostro caro Scorpion born ci abbandona Per lasciar passare annuncia Beh, ragazzi In questo preciso momento Tutto Tutto Siedi E' finita la fase 3